Perché tu stai facendo, allora non bisogna confondere, secondo me sono tutte separate poi se uno vuole fare, è chiaro però l'importante è che abbia chiaro l'idea che sono due cose diverse perché la promozione, il video cosa fa? Stimola, no? E poi non ti fa vedere niente perché ti dà... Allode a tutto E allora devi andare a vedere se vuoi ma ti dici, invece il cinema, no il cinema è qui e se quello mi propone una cosa, io la devo poter avere l'allenamento o comunque l'assessibilità di capire che cosa mi sta proponendo non devo correre, certo mica posso stare mezza giornata però se è scritto bene e questo include anche l'attenzione sulla scrittura e della sceneggiatura molto importante sapere se un primo piano deve durare tanto o più di tanto o meno di tanto perché se come primo piano, dico primo piano per dire una cosa, può essere una serie di oggetti un ambiente, se devono suggerire o se devono dare delle indicazioni sul tema che io sto trattando ho bisogno tutto il tempo per farlo capire non è che appena si presenta noi abbiamo capito cos'è perché quello lì avrà dei collegamenti con tutta la storia che si racconta quindi non è che non si può fare Tiziana, capito? Gallo Gallo, no? Eh ma tanto ormai se faccio un altro film mi scriverò Tiziana Ferro però l'importante è sapere che sono due cose separate poi se le vuole unire infatti siccome io